La puntata di stampa Evangelo, puntata conclusiva di una settimana dove la nostra attività come Popolo e la Famiglia, anche come PDFDV, è stata molto intensa e l'attività continua inevitabilmente parlamentari. Andiamo a parlare del tema che ci sta più a cuore, stampa Evangelo. Abbiamo preso gli esiti sulla stampa della sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio assistito, anzi non sentenza perché è un rinvio al Parlamento della questione con l'invito a legiferare entro il 24 settembre 2019. Sono emerse delle reazioni, la prima reazione è stata quella di Luigi Di Maio, il vice premier, che ha detto che per fortuna la Corte Costituzionale ci ha dato un anno, è un tema che dovremo affrontare. Poi è intervenuto il ministro della salute, si chiama Giulia Grillo, e ha ricordato che il Movimento 5 Stelle è sempre stato schierato sulla morte dignitosa, e lei stessa come ministro sta partecipando, anzi sta varando gli ultimi decreti che servono al varo dei registri per le disposizioni anticipate di trattamento, le famose DAT, e poi è intervenuta la più bella di tutte, il ministro Buongiorno, la leghista ministro Buongiorno che ha fatto questa dichiarazione dicendo da credente, ha voluto fare questa premessa, da credente, da cattolica, voglio però varare una legge che preveda l'autodeterminazione per chi vuole morire in maniera. La cosa che mi fa veramente imbufalire dei leghisti è questa premessa da credente. Ora, non serve a niente sventolare i rosari o proclamarsi i credenti, avrete notato, spero che l'abbiate notato, che io in tutta questa fase della battaglia sul suicidio assistito non ho mai portato, mai portato l'argomento di natura religiosa la vita appartiene a Dio, quindi non puoi disporne. Non l'ho mai avanzato, perché evidentemente avanzare questo tipo di impostazione A sarebbe scorretto, B sarebbe anche facilmente aggirato dagli oppositori che dicono che noi in Dio non ci crediamo, quindi che vuoi, perché ci vuoi obbligare. Allora io mi chiedo perché uno deve fare una premessa però così stridente dicendo che da credente, allora da credente questo è a favore dell'aborto, a favore dell'unione gay, da credente adesso vuole anche la legge sul suicidio assistito, da credente ha praticato la fecondazione eterologa e ha un figlio senza padre. Ora va bene tutto, per carità, ma non dire da credente, perché davvero da credente no. Da credente c'è il comandamento, non uccidere, da credente c'è un magistero, il magistero è il papa, da credente c'è un catechismo della chiesa cattolica e rispetto a tutte queste cose da credente fai l'opposto. Ora non si può fare questo, non si può fare questo. Allora almeno questo i leghisti ce lo risparmino, non ci dicono da credente. Se vuoi fare la legge sul suicidio assistito dici voglio la legge sul suicidio assistito ma la premessa da credente non è assistito. Allora per riepilogare tutte le voci del governo, sia grilline che leghiste, sono state a favore del suicidio assistito, tutte. C'è stato il silenzio di Matteo Salvini che non ha commentato, e diciamo i vertici della Lega non hanno commentato, non c'è stato un parlamentare, non c'è stato un parlamentare, neanche uno, che abbia detto, magari da credente, che la legge sul suicidio assistito c'è già e lo vieta, che è la cosa più ovvia, la risposta più evidente. Non c'è alcun vuoto normativo, non c'è alcun vuoto normativo. La legge sull'aiuto al suicidio c'è già, lo vieta e lo sanziona con cinque anni di carcere come pena minima fino a dodici anni di carcere. Non c'è da aggiungere altro. Poi si può dire vogliamo fare un'altra legge, ma non si può dire c'è il vuoto normativo, perché il vuoto normativo non ci giustifichi il tuo suicidio. Allora, noi dobbiamo avere chiaro di cosa stiamo parlando, altrimenti se non abbiamo chiaro di cosa stiamo parlando, l'orrore crescerà e l'orrore più orrendo è che in tutto il Parlamento italiano, 951 membri, non c'è stato uno che ha alzato la voce dicendo la legge sul suicidio assistito c'è già e si chiama articolo 580 del codice pienale che lo vieta, che sarebbe accaduto. Non avevo immaginato però che su 951 parlamentari non ce ne sia stato uno, uno che ha alzato la voce dicendo la legge sul suicidio assistito c'è già e lo vieta, non ce n'è uno. Dov'è sto lievito dei parlamentari cattolici nei partiti? Ma dov'è? Ma dove stanno? Ragazzi siamo ormai scomparsi e totalmente irrilevanti. Avete capito a che serve il popolo della famiglia? Grazie. Grazie.